di fare una grande manifestazione civile per dimostrare che questo paese non è assoggettato al potere, ma ha voglia, voglia di esprimersi e voglia di partecipare. Hanno detto che eravamo quattro gatti, dicono che l'Italia sta tutta dalla parte di Berlusconi, questi sono tutti italiani, magari parlano pure meglio di me gli italiani, ma vi assicuro che tutti quanti vogliono una sola cosa, liberare il paese di questa numeria. I numeri di questa manifestazione sono impressionanti se confermati. Si parla di 600.000 presenze fra Piazza San Giovanni e tutto il corteo che ancora deve arrivare completamente. ...e persone per male, perché questo governo troppo spesso sta facendo provvedimenti, azioni e comportamenti che assomigliano a comportamenti mafiosi e non a comportamenti nell'interesse dei cittadini. Un aggettivo per descrivere questa giornata. E' la prima giornata di una resistenza attiva prima di dare la spallata finale a un governo è una piluista e fascista. E' una partecipazione popolare di cittadini che si ritrovano tutti insieme sotto mille bandiere, ma sotto un unico ideale, quello di un stato di diritto, di un paese democratico dove l'informazione è plurale, dove chi sta al governo ci sta nell'interesse di tutti, non per farsi gli apparivrosi.